Oh mio Dio, si ce l'avevamo davvero C'ho le mani sudatissime io Una roba Così, da camerato Oh mio Dio, è vero, ce l'avevamo davvero Cazzo, aveva un 5 la giovane Cazzo, si Muschio selvaggio, bocca, sputico Federico, Martì Muschio, microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, senti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti Isla, imprendibilità, giochi, l'adevotenza, risate, gli altri, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio, un ciclo massaggio Ciao amici di Muschio selvaggio Oggi c'è una nuova puntata Era bene, era bene Allora, nuova puntata di Muschio selvaggio Oggi è una grande rimpatriata Perché è una persona con cui ho Collezionato un sacco di ricordi nella mia vita E poi non l'ho più vista Perché come tantissime persone ci ho litigato Davo il benvenuto a Gali Era una bella intro, no? Sì, sì, sì Ora sono curioso di sapere quali siano Sì, questa puntata sarà una grande rimpatriata In realtà ci siamo visti ieri sera che ero in studio Avete rovinato tutto il bel momento Sì, no, abbiamo raccontato le cose che non possiamo dirci qua Non le dite qua Devo dire, io non ci vedevamo da quanti anni? Proprio veramente Dieci Dieci anni Dieci anni E come... Veramente tipo a parte Z Sì, no, dico proprio che c'eravamo... che uscivamo Dieci anni Secondo me è l'ultima volta 2013 è stato 2013 Eh, sì, attorno a quell'evento lì L'MTV Cos'è che c'era? Aveva litigato all'MTV Hip Hop Awards No, in realtà quel giorno avevamo fatto pace No, no, poi avevamo litigato Sì, avevamo discusso un tipo... Che io volevo picchiarti e sono inciampato su me stesso E mi sono sblocato la caviglia Sì, e poi ti sei messo a correre per strada come un pazzo E tipo quasi ti investivano le macchine In direzione di chi? Cioè, vabbè Eri impazzito? Sì, ero impazzito E hai iniziato a correre per strada Ero tutto matto Volevamo a passare tutti Poi si è messo a correre per strada e quasi la investivano Tipo mamma ha perso l'aeri quando corre in casa e fa... Però in mezzo alla strada, capito? No, madonna Sì, bello, bello Hai assunto qualcosa? No, no, non mi drogamo Bevuto, credo Era un Gian Giacomo Mora vibe Sì, sì, sì Berlin Berlin Beh, vabbè E dieci anni, però, l'ho rivisto ieri e mi sembra che non... Cioè, tu mi hai visto cambiato Io a te no Neanch'io a te Vero? Davvero? No, ma veramente Ok, ci rimango male No, no, ma veramente Anche a te non ti ho visto cambiato Cioè, mi sembrava, capito Beh, dieci anni Sarà che avete continuato nelle stesse strade, tra virgolette Cioè, non è che avete fatto dei cambiamenti di vita esagerati Perché vi siete conosciuti nell'ambito musicale e siete ancora nell'ambito musicale Beh, minchia, dei cambi ci sono stati, minchia Una famiglia, io ho dei figli Sì Vabbè, vi lascio parlare No, no, vabbè Stavo pensando Io non vi ho conosciuti prima di tre anni fa, diciamo Ok Quindi, almeno per quello che so, Federico è così da sempre Sì E te, non ho idea di niente Io, non so, era un po' più Forse un po' Ragazzacato Sì Era un po' più incazzato Sì Era molto incazzato, sì Come ti descriveresti, cosa ti diresti se tornassi indietro in questo momento? Ma in realtà credo che sia una cosa, semplicemente una crescita Capisci, capisci ad un certo punto capisci che non serve più fare certe cazzate Che devi affrontare un po' la vita e le persone, le giornate in un modo diverso Un altro mood Sennò poi non riesci nemmeno a raggiungere i tuoi obiettivi Perché ero controproducente per me stesso ad un certo punto Oltre al fatto che avevo anche un po' di sfiga generale No, lui ha avuto una sfiga Io ero incazzato perché spaccavo e la gente non lo riconosce Lui e il suo collettivo, Troop the Elite, sono stati il gruppo più aitato Era il video con più dislike della storia di YouTube Sì, era YouTube quando c'era la barra colorata La barra rossa e la barra verde C'era una barra e era rosso quando erano i dislike e i like erano Ecco, loro avevano tutto rosso Tu immagina tutto rosso Ma senza un apparente motivo Sai quando devi odiare per moda? Perché loro erano usciti con questo pezzo che non era né bellissimo ma nemmeno una merda Però era sfaggoso Però era stiloso Era un primo video che vedevi così Era la prima volta che vedevi dei ragazzini Questo in che anni? Era la prima volta che vedevi dei magrebini Sì, era stiloso A me ricordavano di brutto i Black Eyed Peas C'è, iconograficamente Era un po' con la roba Sì, c'era questo gruppo che andava contemporaneamente in quel periodo in UK Si chiamavano Ndubs Non so se ti ricordi gli Ndubs Ti ricordi gli Ndubs? Era un gruppo pop formato da due rapper Uno bianco, uno nero E una ragazza Una ragazza che era un po' la nostra maite Sì, non mi ricordo io questi Ndubs Eh sì No, fu una cosa veramente agghiacciante Infatti io ero Dai, dammi atto Che sono stato l'unico che vi ha difeso pubblicamente E anche privatamente No, sì, sì, sì Comunque E successero un sacco di cose Di casini Nel senso che poi io Cioè, ci incazzavamo Perché poi anche gente magari della nostra etichetta O non faceva niente O c'era gente nell'etichetta che insultava Cioè, li insultava Sì, sì, diciamo che c'era gente dell'etichetta che non era felice Però... E noi quindi andavamo a fare brutto Sì, ci picchiavamo un botto Allora, racconto questa cosa bellissima Io ricordo... Allora, io i miei primi 10.000 euro guadagnati Decido di fare una vacanza Dove... E poi ci hanno raggiunto gli altri Il tema qual era? Che dovevo ancora uscire il mio disco sotto major Però io ero già famoso Ma non avevo abbastanza soldi Per permettermi la sicurezza Quindi era terribile Quindi eri insicuro No, no, no Era tutto orribile Mi ricordo Ferragosto Circondato dalla gente Che ci hanno chiuso in una gabbia Sì Te lo ricordi? Sì, sì, sì Eravamo in una gabbia in una spiaggia Con la gente ammassata Tipo... Perché avevano una gabbia? Non lo so Ti ricordi? C'era una cazzo di gabbia Secondo me era la prima Era la prima volta Che nell'hip hop italiano Nell'hip hop italiano Si vedesse veramente Un fenomeno Pop Teen Idol Così forte Cioè Con la gente che impazzisce Così tanto per strada Con... Veramente Erano i primi video Delle manate sui van Era la prima volta Poi soprattutto Quando poi si sono messi Anche Fede Zegue Assieme Che saluto Si vedeva Si vedeva per la prima volta Veramente questa roba Huge Un movement Che nasceva E solo che avevi le cose belle E avevi il bello E il cattivo tempo Ricordo che ho nella mia mente E io e lui Non so se te lo ricordi Ma in macchina E un tizio da lontano dice Figlio di puttana A chi? A me Una cosa del genere Sei la merda Insomma mi insulto Ci fermiamo al senaforo E lui scende Lui scende Questi erano tipo in tre E lui aveva Lui ha sempre avuto da giovane Una capacità incredibile Ovvero di non aver paura di niente Cioè io l'ho visto andare da solo Contro orde di persone Si avevo Però le prendeva no? Cioè le prendevi anche Si Però senza paura E io mi ricordo questa scena di Io fermo al semaforo Gali che scende E torna pieno di sal Poi aveva questa skills Che perdeva sempre sangue dal naso E quindi tornava sempre tutto insanguinato Facevo Gali e no E abbiamo fatto tutta la vacanza Comunque a gestire delle cose Da soli Terribili Fino a che un giorno Capannina Di Forte dei Marmi Ah Ok Locale storico Succede che Alcuni dei nostri amici hanno una discussione Con delle persone del luogo Ok Queste persone vengono cacciate via Ok In tutto questo poi arriva la polizia Che vuole portarsi via Gali Ti ricordi? E io completamente ubriaco Non so come Riesco a convincere i poliziotti A non portarselo via Ti ricordi? Non so come cazzo l'avevo fatto Sì 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 Ma ancora prima Io mi ricordo Era quella volta che C'era questo gruppo di ragazzi Credo che sia il figlio di un politico Può essere Ti ricordi? Mi ricordo che poi Ci furono delle robe pesanti Era il figlio di un politico Oh mio Dio Questo lo bippiamo È quel cretino lì Quello che rappa? Era il figlio di un politico Praticamente siamo entrati Alla capanna Forse quello grande Con tutti questi suoi amici Con la camicia bianca Lui era tutto pieno di piercing E ad un certo punto Mi sa che Tipo entrando Io non avevo sentito Tu ovviamente Non volevi mai evitare Ries Cioè nel senso Se io non sentivo una cosa Poi io appena sentivo una cosa Non vedevo l'ora Capito? Lui non è che magari Sentiva una cosa E faceva finta Tu sticavi E praticamente Passando questi qua Gli hanno chiesto un autografo Sul capezzolo Sì Ok sì Vero Allora siamo andati Al nostro tavolo Eravamo tipo io Lui e un po' di amici E gente di badge Oppure E questi qua Continuavano da lontano Ad un certo punto Si sono avvicinati E c'è stato proprio un C'è stato uno scontro Alla Bud Spencer Faccia 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 Due gruppi Ah 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 E io avevo un bicchiere Avevo un bicchiere in mano Non direi troppi dettagli Gali Di questa cosa Direi scontro alla Bud Spencer Ok Questi vengono cacciati E noi continuiamo la serata Tutti avevano un bicchiere in mano Quella sera Sì sì esatto Cosa succede Praticamente Mentre usciamo dal locale Ok Sentiamo una folla Una folla Ma ti giuro No 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 Inizia ad arrivare gente da fuori Dicendo No 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 Era così Era così Io mi ricordo che c'era sta folla Stiamo per uscire Il buttafuori fa Ragazzi non uscite Sentite sta gente fuori È tutta per voi Si era attivata La località No io mi ricordo che Chiamo la polizia E dico Mi vogliono picchiare Arrestateci Vi prego Prima ancora Prima ancora della polizia Hai chiamato Emilio Zio Che era a 800 km Ah sì è vero Era a 800 km Si stava per attivare Sarebbe venuto Noi non sapevamo come uscire Noi non sapevamo Noi non sapevamo Allora Eravamo in 4-5 persone E fuori c'erano tutti Sti motorini con le catene No ma roba Assossino Guarda cosa gli hai fatto C'era sto tipo qua Che era entrato C'era arrivata l'ambulanza L'hanno messo in ambulanza Guarda cosa gli avete fatto Guarda cosa gli avete fatto E c'era tutta formentera No formentera Tutta a Forte dei Marvi Non era formentera È venuta un'altra località No confondo sempre Tutti da formentera Quindi cosa succede I buttafuori ci fanno tranquilli Ragazzi Vi scortiamo noi Tra l'altro In quella vacanza È nato il mio brano Pensavo fosse amore Invece eri una escort Perché Sì perché ti sei innamorato Di una escort Mi ero innamorato Di una ragazza Che non riuscivi a capire Che non riuscivo a capire Alla fine faceva la escort Sempre quella sera Avevamo ancora quella tenera età Che non riuscivi a capire Se una ragazza È successo È successo Sì E vabbè Praticamente i buttafuori fanno Vi scortiamo noi Sulla spiaggia Ci aprono la porta Dello stabilimento Entriamo in cucina Usciamo dalle cucine Sai cosa fanno i tipi Ci buttano in mezzo alla spiaggia Chiudono la porta E se ne vanno via Solo lo stabilimento Andavamo nei bagni E sentiamo questa folla A un certo punto Lui dice Sono qua Sono qua E ci rascondiamo Sotto i lettini della spiaggia Per mezz'ora In silenzio Faceva stiamo zitti In realtà Non aveva visto Cioè Non era nessuno Siamo riusciti a scappare Scopriamo il giorno dopo Sul giornale Che erano stati picchiati Dei ragazzi Solo perché erano milanesi E perché pensavano Che fossero amici nostri Madonna Ora Ora invece Siete in un periodo Un po' più tranquillo Della vostra vita Non vi capita una cosa del genere Eravamo giovani Però ho dei ricordi molto belli Cioè Di gioventù A parte questi Ovviamente Questi sono Ricordi adrenalinici Adrenalinici Però Ieri parlavamo di una cosa Con lui Che è interessante Di Baby Gang No? Che Io non so se Non l'ho mai detto In puntata con lui Però ho sempre avuto La sensazione Di quando vedevo Baby Gang Durante la puntata Che mi ricordasse lui Ovviamente con sfumature Completamente diverse Baby Gang Credo sia un po' più estremo Di lui Quando era giovane Però l'attitude È la stessa Cioè Un ragazzo molto buono Perché la voce è simile Baby Gang è più estremo Ok Sì Hai capito? Cioè più estremo negli atti Nei pensieri È entrato in un circolo vizioso Più Più deep Più autodistruttivo Però Io noto la stessa Bontà E la stessa scarsità Di opportunità Che ha avuto lui Da ragazzo Che si è riuscito a Però la differenza È che lui è riuscito A risalire È che Baby Gang È ancora molto giovane Però mi ricordo Lui nella puntata Con voi Aveva detto Che a differenza Mia Mi erano state Date delle possibilità In realtà non è vero Secondo me La gente Non sa Non sa Fede Tu Guè Arce Tanta roba Secondo me Siete testimoni Di come Non c'era Ma scusa Quanti anni avevi Quando succedevano queste cose? 16 Sì 16 16 anni Ok Eh beh Baby Gang È più o meno lì Se vuoi Quindi Deve un passare degli anni Perché quando hai visto Effettivamente Quando sei stato riconosciuto Effettivamente come artista Sbaglio con I pezzi Da solista Tipo marijuana Dopo anni Sì Io ho iniziato Sì ho iniziato a fare Quei pezzi là E rappresentavo Rappresentavo Proprio La mia gente La mia gente In quella fase Proprio in cui ero io Ancora Cioè io Io mi incazzavo Nei periodi di Troop d'Elite Perché dicevo Cazzo Ma qua fuori C'è un sacco di gente Come me Che sta Sta vivendo Le mie stesse cose Ha il mio stesso vissuto Siamo tutti fan Dei Dogo Siamo tutti fan Di Marra Di Fede Di tutto quello che c'era Prima Di Fibra Però Nessuno parlava veramente A me Cioè non so come spiegartelo Siamo Comunque è la prima È la prima La prima seconda generazione No? Sì Di italiani Ani di seconda generazione La prima data di seconda generazione Quindi è stata una cosa Senza precedenti Non avendo precedenti Non c'era qualcuno Che veramente rappresentava Mi ritrovavo tanto Nelle parole degli artisti Dei rapper Nei testi Però Non stavano veramente Raccontando il mio feeling Il feeling di tanta gente Io quando facevo Troop d'Elite Quella roba là Sapevo che stavo Rispecchiando Un certo tipo di pubblico Che Che però Che aveva bisogno di me Ma ti tendevano la mano Questo pubblico Quando è che si è presentato? Secondo me era piccolo Stava crescendo Sai che Io ho la sensazione invece Da fuori Perché non c'era Nei commenti In quello shitstorming lì Questo pubblico qui Non c'era Forse non erano ancora Grandi abbastanza No io Io ho una mia visione Nel senso Lui ha dovuto fare Una cosa difficilissima Ma anche Ernia Quale Lui forse di più Perché era Era quello più Esposto Ricordato Era quello più esposto Del gruppo Perché andava in tour con me Quindi lo vedevano tutti Mentre gli altri erano un po' Nelle retrovie Però anche Ernia Ha avuto lo stesso problema Tu immagina Il gruppo più odiato Della scena rap Con lo stigma Di essere Dei raccomandati Perché poi Io ho sempre detto A quelli della mia etichetta Che sbagliarono Perché loro uscirono Dal nulla Con il logo Sony E con il logo tanta roba Se quel brano fosse uscito Senza quei loghi Questo è il mio parere Probabilmente Non avrebbe attirato Le antipatie delle persone Eh sì Capito Anche perché era un periodo Dove commerciali Venduti Quindi quella cosa lì Da subito Ha attirato le antipatie Perché è arrivata Come una cosa Più costruita Di quello che era in realtà Perché in realtà Non era una cosa costruita Quindi immagina Che lui Ha dovuto Stare Fermo Fermo E aspettare Che le persone Si dimenticassero Questo star fermo Comporta Passare degli anni Cioè Aspettare anni A farti Rodere il culo Oggettivamente E cercare di Far dimenticare Le persone Questa cosa E costruire la musica Secondo me Inizialmente Almeno la percezione Che ho avuto io E al netto Che tu fossi un italiano In seconda generazione Che volevi Rappresentare Questa cosa In maniera nuova Innovativa Era proprio il sound Cioè Il sound dei brani Era nuovo Anche Gli argomenti Cioè C'era questa cosa Di Dragon Ball Adesso sembra una cagata Però che Nei testi metteva Tanti riferimenti Ai cartoni animati Cioè Era proprio Un sound nuovo Sono i trope d'elite Sì Era anche Era anche Il periodo post Io mi ricordo Quel periodo lì Mi lo ricordo sempre Ti ricordi le magliette Di Zara Con le collane fake Stampate Ecco Quello era proprio Il periodo In cui il rapper Ostentava Ostentava I soldi Che non aveva Ancora prima Di ammettere Di arrivare Da un palazzo popolare Ti ricordi Che c'era quel momento lì Non lo dicevamo Di essere poveri Sì Cioè Troop d'elite Anche Troop d'elite Non diceva Di essere poveri Io indossavo I gioielli di mia mamma E facevo La foto C'erano gli occhialoni grandi Magari con una sbarra Qui Esatto Avevo quelli Carriera E dicevo Mi ricordo Le caption Era tipo Con questi occhiali Vedo tutto più bello Capito? Sì Flex Beh Era il periodo Pre Dire che vuoi bene A tua mamma Era il periodo Predire che sei povero E che vieni da un quartiere Di merda Da una situazione Del cazzo Totalmente Ve lo ricordate o no? Sì Certo Poi è arrivata La wave Strada Rivendicare le proprie origini Strada Rivendicare le proprie origini Anche un po' più poetiche Vengo da lì Oppure Vengo da lì Però non sono così È arrivato dopo Ora è sincerità Svuoto subito il sacco Ti dico che a casa Ho questi problemi Vivo questa situazione E poi flexo i soldi Che non ho No Ora è anche Anche se ne sono uscito Non ne voglio uscire Devo rimanere là Perché ho fatto di quello Il mio prodotto Eh sì Adesso c'è pure questa cosa qui Molti stanno provando A affinare la tecnica Perché se perdi Poi la strada Perdi anche il pubblico Quindi chissà cosa ci si inventerà Per riuscire a mantenere La realness Però uno credo che voglia uscire Da una condizione di disagio Non è che ci vuoi rimanere Per poterlo raccontare All'infinito Io dicevo In tutti quei pezzi In tutti quei pezzi lì Che facevo Dicevo io non vedo l'ora Di uscire da questa situazione Cioè io voglio Voglio uscire da Solo che è diventato così figo Ti ricordi quando tua mamma Ha aperto la frullateria Sì sì La gelateria E Arsh mi diceva No te lo dicevo anch'io Torni a Ah no 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 Se non fa il bravo Torni a fare i frullati Quello ti diceva Io ti dicevo che era Secondo me un business Perché era molto buono Era molto buono Però non funzionava Però era in una via A baggio Mai non sono mai stato bravo Nelle strategie Era in una via a baggio Tipo inculatissima Sì non c'era passaggio Non c'era passaggio Facevamo io e mia mamma I frullati Cioè comunque cercavamo Di abbassare il prezzo Comunque la frutta costa Un botto Facevamo i frullati A un euro e cinquanta Due euro Che già tantissimo Ma erano molto buoni E comunque la gente Non li prendeva Perché preferiva magari Stare al bar Tabacchi all'angolo Seduti E con un euro Si potevano prendere il caffè Rimanere quattro ore E fare piazza E fare piazza Quindi che cazzo viene a fare Da me a prendere il frullato A baggio non è il luogo Dove fare la frullateria Perché venivano i sudamericani La mattina L'apprezzavano Sì e poi a volte Tipo uscendo dagli uffici Le persone a mezzogiorno Si facevano un frullato Anziché pranzare Era quella cosa lì Però veramente facevamo Tipo cinquanta euro al giorno Non era sostenibile No dopo un po' Non era più sostenibile Noi facevamo piazza lì Venivamo lì Facevamo piazza lì E lui veniva Io venivo Con la Peugeot 206 Avevo la Peugeot E tu li prendevi i frullati? Avevo Peugeot 206 Coupé cabriolet La macchina più bella Quella donna Super francese Super lusso Pagata a 1600 euro Però ero cool Perché veniva Fedez Veniva Simone Calvano Che è questo mio amico di Baggio Ah che giocava al Milan Benissimo che giocava al Milan E è entrato a giocare al Milan E Bistar Quando c'era Ibra Beh un luogo Della nuova leva Diciamo no? Eh sì 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 Beh però Ti fa capire Nel percorso Di un artista Quanti sacrifici Comunque ci sono Cioè uno pensa Sai questo qui fa musica E quanti tentativi E quante carriere Anche al di fuori Quante volte poi Sono caduto E mi sono rialzato Tante volte È la filosofia Di Michael Jordan Che dice Tutti dicono Quanti punti ho segnato Ma per Adesso non so Se la diceva così Però è Per segnare così tanti punti Devo aver sbagliato Almeno il doppio dei tiri No? Qualche modo Vedono solo la cima Dell'iceberg Non vedono I sacrifici Scusami no Volevo questo No Sei vero ma giusto Beh E poi Io ti ho scoperto Con marijuana Ma Marijuana E poi Marijuana Sempre me Cazzomene E lì era tutto Era trap Proprio trap Era trap Ma Vi posso dire una cosa Vi posso dire cosa ho fatto Chi mi ha ispirato tanto Vai Il pagante Ah sì Ma davvero Io credo che quelle Siano le tracce Rap trap Più Fighe Di quel periodo lì Ed è assurdo Che siano Cioè ti giuro Che mi sono ispirato Al pagante Ma da qualche pezzi Più o meno Eh ma Il pagante Il pagante È la cosa figa Che faceva È che parlava Veramente agli italiani Sì Ai milanesi Il pagante Parlava agli italiani Ai milanesi In modo esagerato Cioè caricaturiale No parlava veramente Come parlavi per strada A slogan Se tu vedi Cazzomene Minchia frate come sto Minchia frate come so È proprio Ah è quello È quel codice Dei manifesti È quel codice Ovviamente con un altro sound Più Più figo Quindi Poteva anche innamorarsi Un fan del pagante Sì 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 La figata secondo me È dire Cioè sei solitamente Magari quando viene un artista Ti dice A chi ti sei ispirato A De André A Gaber Invece molto spesso No ma invece No io sono d'accordo Molto spesso Cioè Attingi magari Da cose ultra pop Ed è giusto dirlo Poi è un miscuglio Ovvio che hai delle influenze Io comunque Anche l'infrullateria Dalla mattina alla sera Ad ascoltare musica Cioè Veramente di tutto Era un mega fan Era un mega fan di Bubà Bubà era appena uscito In Francia Era fortissimo In quel periodo Con l'autotune Faceva delle medie Pazzissime Erano tanti i personaggi Che mi ispiravano In quel momento Però Il pagante Ho capito un trick Che poi Involontariamente Secondo me Non so se è Però È successa la stessa cosa Con la Dark Polo Cioè I fan del pagante Si sono spostati Sulla Dark Polo Ah sì Beh Eh sì Perché Tutti quelli che vedevi Sbocciare Ai party Ai DJ set Del pagante Poi andavano a vedere La Dark Polo Sì Si sentivano più fighi Era lo stesso codice Però il suono Era più Un attimino più Cool Look diversi Non voglio Non voglio ritirarlo in mezzo Scusate Prima a farlo È stato Bello Figo Ah no Quindi con gli slogan Lui era super fan Un tema caldo Esatto Io ero super fan di Bello Figo Ma io conosco tutti i pezzi Quindi esatto Che prende un tema caldo Che se è un termine Se è un personaggio Un tema Uno slogan Lo prende Ci fa tutta una canzone Bello Figo ha anche una grandissima Cioè Sensibilità musicale Secondo me Proprio Cioè Sente la musica Ed è una cosa incredibile Gli viene riconosciuta questa cosa Da tutti gli artisti Ma non dal pubblico No ma ora Il pubblico pian piano Sta capendo Ma il pubblico Secondo me Non prende mai Non capisce mai Il tuo successo Per quello che è veramente Certo È sempre un motivo diverso Da quello che è veramente Non so perché Ma in Italia Succede così Sì E poi Il pubblico non capisce mai Ma forse è un bene Che non capisca Effettivamente Chi tu sia Cosa stai facendo Cioè Ognuno capisce Quello che vuole capire Non è giusto che ti capiscono A 360 Il rischio di essere frainteso Però è molto alto Sì Infatti I migliori comunicatori Tipo Fede Fai Sono quelli che parlano In modo molto chiaro Cioè Non fai la storia Dicendo Facendo vedere il piatto Fai la storia Facendo vedere il piatto Che ho scritto Queste sono fragole Capito? Cioè Fai vedere E questa è la comunicazione Vincente Con le masse Perché è inequivocabile No? Invece appena fai qualcosa Di strano Fuori dalle righe Anche in campo musicale Uno inizia a dire Non capisco Lì dipende Anche dalle ambizioni Sì Dipende anche dalle ambizioni Dipende ad un certo punto Per quale motivo lo fai E E le tue ambizioni Quali sono oggi? Le mie ambizioni sono Eh Fare Quella Fare musica che mi piace Fare musica che mi gasa Quando metto play Vabbè Però non è Dimmi un'ambizione Un obiettivo che ti sei dato I soldi No Però magari Fare San Siro Che cazzo ne so Eh Mi piacerebbe tanto Fare San Siro Un giorno E sarebbe bello Fare San Siro Sì Tu per ora hai fatto forum Sì per ora ho fatto forum Forum Che già è un bel traguardo Sì L'artista italiano più giovane Ad aver mai fatto il forum Ok Non fate Non fare queste classifiche Giusto No però è vero No è vero è vero Più giovane Però non è stato mai detto Quindi Vabbè giusto Scusami Quanti anni avevi? Eh Avevo 20 No ma che Sei davanti Che cazzo ne so Avevo 25 25 Sei ancora giovanissimo 25 26 Allora non è vero Io avevo 23 Quando ho fatto il forum Veramente? Sì Ecco Hai distrutto un sogno No non lo so in realtà Il primo XFAT Avevo 23 anni E ho fatto il forum Il 2018 io non so Quanti anni Vabbè non è vero No questa tagliamola Che sembro stronzo No no vabbè E appena distrutta E appena shutterato Dai primo magrebino Eh dai Questo è già Il italiano di seconda generazione Primo magrebino a fare il forum Dai Il Ho sentito il disco Quando uscirà questa puntata Probabilmente il disco sarà già uscito Il tuo? Sì Boh Non lo so Quando esce il disco? Esce il 20 Quanti ne abbiamo Gigi? No non esce Eh sì Sarà già uscito Sarà già uscito Ad ogni modo sì E Previsione Secondo me La top traccia del disco È il pezzo con Madame Fortissimo Non l'ho sentito tutto il disco Ho sentito un po' di tracce Ma il pezzo con Madame È bellissimo Veramente bello Eh me lo voglio sentire C'è un modo Posso Dopo me lo spoileri Fantastico E nel disco hai collaborato Ci sono delle storie interessanti Nel senso hai collaborato Con artisti egiziani No Con artisti tunisini Tunisini scusami Sì Sono andato in Tunisia A girare il video di Walla Un pezzo uscito a ottobre E Ho sempre Ho sempre voluto Tirare in mezzo Dei producer O comunque Degli artisti arabi Nel mio progetto Oltre a Fauzi Comunque in Italia E Non so mai In studio Con chi parlare Di quella cosa Con chi tirare fuori Quella Quella cosa lì Scusate Con chi tirare fuori Quella cosa lì E Allora una volta Durante le riprese in Tunisia Ho fatto un po' di ricerche Ho trovato questo ragazzo Che si chiama Rat Chopper Bravissimo producer Tunisino Che ha fatto pure Dei pezzi Molto fighi Con grandi numeri Anche su Youtube Ma veramente fighi Bravo lui E E niente Sono andato in studio da lui Era con un autore Che avevano Avevano un po' di Stavano Scrivendo un po' di pezzi In arabo bianco L'arabo bianco È l'arabo comprensibile Da tutti Da tutti i paesi arabi Ah ok Ok È come se È come se Dicessi Un italiano Che si parla al telegiornale Un inglese americano L'italiano che si parla a Milano Sì Cioè Sì Sì che è un po' comprensibile da tutti Dovrebbe essere il toscano No Quello di ha letto Che cazzo dici Dal 1400 E quindi Gli ho Gli ho Gli ho tirati in mezzo Sono tornato in Italia Finalizzando il disco Gli ho Gli ho portati qui E poi non so se si può dire il resto Ma dillo Secondo me è interessante come roba Tanto non lo cercheranno Cioè nel senso Io gli ho fatto il visto A questi due ragazzi Tra l'altro Uno ha fatto il da garante All'altro E Sono venuti qua Abbiamo lavorato il pezzo Uno di loro Ha già cambiato Cioè tipo Appena messo piede in Italia Tipo ha cambiato atteggiamento Nei confronti di questi ragazzi qua Che comunque Lo stavano seguendo E crescendo Da un po' di anni Comunque stavano investendo Tempo e denaro Su di lui Lui è cambiato subito E ha appena visto l'occasione Scappato Un po' come le squadre di calcio Del corno d'Africa Che non esistono Perché appena fanno la trasferta Scappano tutti Davvero? È scappato? Sì è scappato Oh cazzo Vabbè vicca Che storia Il pezzo parla proprio di questo Parla proprio di questo È l'intro del disco Non so se si può dire Perché è una cosa Che si sta facendo In corsa adesso Beina Che vuol dire È chiara Sarà anche il nome Di una barca Che stiamo prendendo Per Mediterranea Ah bello Resca Bello Figo Sei andato tu a fare Rescue Non sono andato Però è da un po' Che con loro Sto facendo delle attività È un'esperienza Che volevo fare anch'io Con Cecilia Strada Io dovevo conoscere Gino Strada L'estate scorsa Poi è venuto a mancare E poi mi sono sentito Con la figlia Con Cecilia È solo che È assurdo Che Io avrei dovuto andare Prendendo una barca In modo tale Che non rubavo posti Per il salvataggio Quindi anzi Ne avrei aggiunti Cioè sarei partito Con una barca In modo tale Che aggiungevo posti L'unico problema È che Al netto Non puoi rientrare Quando vuoi Bravissimo Cioè se stanno 15 giorni Tu devi stare 15 giorni Esatto Ma no ma non è tanto quello Il problema è che Se noi abbiamo Delle leggi Per la quarantena Ok Normali Quindi non c'è più La quarantena Vera e propria Se stai a contatto Con un positivo Giusto Ok sì Non si sa perché In Italia Se sei su una barca Le leggi sono diverse E quindi devi fare 15 giorni di quarantena Quindi devi stare in mare Al porto Almeno un mese Capito Cioè Ed è assurdo Ed è Sembra fatto apposta Per incentivare le persone A non andare a salvare Le persone In qualche modo Ci sono tanti modi Che usano Per non far andare A salvare le persone Sì sì lo so Però già questo Ti fa capire Che è proprio un modo Per disincentivare Le persone ad andare Perché è ovvio Che io magari 15 giorni Riesco a farmeli Un mese Lontano dalla famiglia Porti tutti Ti porti la famiglia Eh sì Non è una cosa così Non è un viaggio E non è una roba Una vacanza Esatto Però deve essere Un'esperienza forte Sì Forte Sì È uscito il video Di progetto happiness Che lui è salpato Quando è successo Una tragedia Sono morti un sacco di persone Lui ha visto Non penso sia Una passeggiata A livello psicologico Eh no Però può essere Proprio utile Da quel punto di vista Questi salvano Un sacco di persone Ma tante Eh sì Cioè capita di salvare Dipo 200 persone Cioè È incredibile Che c'è proprio Una stagionalità Mi spiegava Eh sì Poi adesso Adesso è il periodo Perché le acque C'è il caldo Le acque sono calme E quindi è il momento Che partono tutti Sì E sì Quindi Se bisogna aiutare Bisogna aiutare adesso Perché è il momento Che loro entrano in mare A salvarsi Beh è figo Che tu abbia Partorito Una coscienza civica Mi viene da dire No? Quel tuo percorso artistico Ma l'ho sempre voluto Cioè tu mi conosci Sì Nel senso L'ho sempre voluto Però adesso Adesso hai i mezzi Per poter costruire Delle progettualità E lo fai Cioè È lodevole Cioè dal mio punto di vista È una figata Beh è quello Che è quello Che veramente conta È quello che veramente Poi ad un certo punto Lasci Sì Mi apprezzo tantissimo Anche quello che fate voi Perché Si parla tanto Tutti i giorni Di tante cazzate Di traguardi inutili Cose inutili Però alla fine Quello che resta È aiutare le persone Dal momento in cui Siamo esposti Abbiamo un certo potere Non farlo È tipo È tipo Uno spreco Altra cosa Che penso anche È non dirlo È uno spreco Perché Chi se ne frega Cioè alla fine Chi se ne frega Di quello che Cioè la missione Il fine Viene ancora prima Di Di quello che pensa Che tu lo stai facendo Per un secondo È inutile Tanto lo penseranno Comunque Pensa quello che vuoi Cioè Alla persona Che io ho salvato In questo momento Non gli interessa La motivazione Per il quale Tu lo stai facendo Sì E poi sarebbe Da egoista Non fare una cosa Perché hai paura Che poi Un altro Pensa che tu La fai Per un altro motivo Cioè ma Chi se ne frega In questo caso Eh sì Sono d'accordo Hai capito? Sì ma anche perché Se non viene naturale Alle persone Di aiutare le altre persone Magari è giusto Che ci sia un periodo Di Rivoluzione Di sensibilizzazione Per cui Si mostra E si dà un buon esempio Così che gli altri Ma poi anche rivendicare Il fatto Che hai fatto una buona azione Vuoi dirlo a tutti Ma che male c'è Cioè C'è Le persone E gli artisti in generale Se la menano per Ma sicuramente Qualcuno lo vuole fare poi Cioè tu Bravissimo Capito? E questo è quello che conta Esatto Cioè Magari Si è sempre fatto Guarda le cene di beneficenza Gli assegnoni Con scritto Dal Dalla fondazione Tal dei tali Eh Molti prendono Prendono Pride In donazioni Ed è una cosa Secondo me da rivendicare Certo Io È una cosa che ultimamente Sto pensando Cioè Ho sempre pensato Vabbè Nel senso Vabbè Comunque Quando fai delle Penso che Quando fai delle piccole cose Savà It's ok Non dirlo Giusto Ok Però quando è qualcosa di grosso Quando si parla di quelle cifre E quando si parla di aiutare così tanto Concretamente Ci sta a dirlo Perché poi Ispiri altre persone Vogliono farlo E vogliono dire Cazzo io Voglio diventare da grande come lui E farlo anch'io Sì Sono d'accordo Sono d'accordo È un circolo virtuoso Bello Il ricordo che ho di te E che sei uno dei Oh mio Dio Ce l'hai ancora Quello te l'ha fatto la mia ex fidanzata È l'unico tatuaggio che ho Davvero? Stessi colori Fa vedere Non mi ricordo che cazzo ti aveva fatto Guarda Stessi colori È una danzatrice del ventre tatuata Sì è vero È vero Gliel'ha fatto la mia ex a Silvia È il tuo unico tatuaggio È un po' muove le tette Se vedi È il tuo unico tatuaggio Sì Ed è di quel periodo lì Siete stati delle tele per la tua ex Eh sì Si vede Cioè non è male Boh Io le voglio bene a Silvia Ma aveva appena iniziato Adesso è più bravo Voi vi siete prestati Gli ho regalato Al cento per cento Adesso è molto brava Sì Adesso è molto brava Che grande lei Ti ha regalato la tua prima videocamera Mi ha regalato la mia ex fidanzata Cazzo ha cambiato La videocamera con cui ho iniziato a girarmi i video io Ma aspetta è regalato Oh Avevamo un negozio insieme Lei tatuavo e l'aiutavo Però con i primi soldi Ma aveva fatto un regale Comunque era un suo regale Sì sì mi ha fatto un regale Cos'era una Canon D500 500 D 550 550 550 550 Mi immaginavo proprio Che fosse una di quelle Quanto erano belli i video in Fishy Mamma mia raga Ma torniamo a fare i video Super sovraesposti Ti ricordi che erano tutti Super bianchi Fatti male Sempre il periodo degli occhiali così Io avevo questo Fishy enorme Riprendevo tutte le date Che facevamo Andavo in giro In questa camera I vlog E gli facevo i vlog E se andate su Youtube Trovate tutti i vlog Del tour con Gue Ma delle scene incredibili C'è lui che vomita Dal concerto di JVT's e Batman No non era Madman Era JVT's e Cane Secco Non c'era neanche Madman JVT's e Cane Secco Sì mi ricordo Stavamo andando Eravamo Ah Eravamo io Te JVT's e Cane Secco E c'erano sette persone A Cazzo pure Calcutta Ha fatto una canzone Su quella città Latina Non Pordenone Era Pordenone Era Pordenone secondo me Secondo me era Pordenone Eh? Eh? Frosinone 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 e Pordenone Vabbè Secondo me era Pordenone Nella Perseveranza Ah Mi ha aiutato tantissimo Eh Ma Penso tante cose Allora Credo che nel tempo Normalmente uno come me Che ha la possibilità Una persona religiosa Che nasce però Nasce e cresce in una città Senza mai viaggiare E Quando poi ha l'occasione Di Di viaggiare Conoscere persone Leggere Qualche libricino Eh Normalmente si allontana Dalla religione Io invece per me Tutto questo Mi ha rafforzato tantissimo Perché Nel frattempo ho avuto pure Dei momenti In cui mi sono allontanato Dal mio Dio Qualunque sia E Ne ho risentito tantissimo Cioè It's not about La religione Cioè Chi Chi stai Chi stai venerando It's about Il canale Che tu apri Quando Quando credi Sono nato e cresciuto A Milano Con genitori musulmani Però ho frequentato L'asilo nido Con le suore Mangiavo il prosciutto Fino a quando Da solo ho capito Che non volevo più mangiarlo E quando ho capito Da solo perché Il maiale no Sì perché in posto Non so quanto Quanto funzioni Soprattutto se Da solo ho capito Perché no E io uguale Raccoterò Cioè Spero che mio figlio Sia musulmano come me Nel senso Libero di Di esserlo E di Senza Senza degli obblighi Senza Praticare Deciderà lui Però io penso che Sia giusto Tramandare Perché stiamo vivendo In un mondo In un mondo in cui Non si crede più Tanto nella magia E credo che la religione Sia la cosa più magica Che oggi abbiamo Nonostante C'è una brutta Ci sono delle interpretazioni Sbagliate Che ci fanno Sbagliare tutto Sulla religione Credo che sia Una questione di interpretazione È una questione di spiritualità Più che di religione Mi parli Sì però è la cosa più Cioè soprattutto nel mondo In cui viviamo oggi È la cosa più vicina Alla magia Capito E se non c'è Se smettiamo Io lo so perché ti sta sul cazzo La religione Perché tu hai visto Cosa ha fatto E quanto sangue ha sparso Eh voglia Ok Però non è Cioè nel senso Quello è il nostro Cioè nel senso Gli alieni Gli UFO Sanno che siamo Degli stupidi Ok Sanno che Sanno che ci massacriamo Tra di noi Ma tu dici che gli alieni Ci guardano? Assolutamente Sì Sì? Ma anche secondo me Sì Sì Secondo me non pensano Delle belle Non è che non pensano Delle belle cose Di noi Cioè Sanno che siamo bellissimi Ci tengono tantissimo Il nostro pianeta Non so per quale motivo Ci tengono tantissimo Sei convinto di questo? Sì No Secondo me Non ci Secondo me ci sono gli alieni Ma non ci stanno guardando Anche secondo me Anche secondo me Perché Troppo lontani Sì Troppo lontani Troppo lontani Sì O magari ci stanno guardando Ma vedono le immagini di noi Cioè devono ancora arrivargli Le nostre immagini A meno che Mauro Biglino Non ha ragione Noi non siamo altro Che dei surrogati Degli Elohim Sì Che è vicino molto al discorso di Dio Eh sì Chi cazzo ci ha messo qui È veramente strano Però vedi questo Questo non mi ha allontanato dalla religione Questo non mi ha allontanato dall'islam Ah no no Mi sta aiutando a capire A capirlo meglio Ma la religione dà una spiegazione dove la scienza non arriva È questo no Quello che si dice spesso Dà una spiegazione alla domanda più No però aspetta Tipo chi ha creato il tutto Comunque Questa è la questione In realtà la religione dà la risposta all'unica domanda A cui non c'è risposta Che è che cazzo c'è dopo la morte Ma anche a cosa c'era prima della vita Sì però Dio Cioè come spieghi Dato che la scienza non c'è arrivata Però è più una domanda secondaria La religione ti dà quelle risposte Per dirti Non farti troppi trip Questo è com'è Il mondo Aspetta Aspetta Di quali libri stai parlando Perché ci sono dei libri che invece sono troppo pesanti E ti spiegano tutto per filo e per segno E non sono quelli commerciali Sì tipo gli apocrifi Ci sono quelli seri che ti spiegano veramente Come è avvenuto l'intervento di Eva Dalla costola di Adamo Ti danno la spiegazione Ti spiegano come l'hanno girato Come hanno aperto il bisturi L'intervento Ti danno tutte le spiegazioni Ovviamente non sarebbe Se quel libro fosse uscito Non sarebbe Sei fan di Biglino vero? Non sarebbe No Non sai che è Non sarebbe la Bibbia il libro più venduto al mondo E ovviamente dovevano farlo Dovevano farlo in modo stilizzato Sì sì No ma infatti Dico che Dicevo prima Ho visto il gatto pardo C'è una scena di Cent'anni fa Fai? No Cento cinquant'anni fa Ma l'hai visto perché siamo andati Sì esatto Nella villa E vedi tutti sti signori italiani Sti signori inchinati In una stanza di una villa Che pregano Come dei musulmani Fai Ma proprio per terra Capito? E pensavo Pensa in centocinquant'anni Come siamo cambiati Ora chi è che si inchina? Cioè una famiglia intera Che si mette in una stanza Stacchinata verso il crocifisso Ma c'è? Eh pochi italiani Ma c'è in Italia? Ah ok in Italia Capito sì sì In Italia ci abbiamo perso totalmente Questo tipo di fede Beh io sono Buona parte Felice di questo Però Scusate Ti dava una scorciatoia Per la spiritualità Capito? Cioè tu alla fine Devi poi ritrovare da solo Una tua religione Perché poi ci ritorni Capito? E il numerologo E lo psicologo Ma infatti E la religione era proprio Una cosa molto più democratica Molto più economica Anche gratuita Per cui tu vai Nel confessionale Che è lo psicologo Vai E poi ti ripulisci Anche psicologicamente È un impatto vero Che vai a fare Degli Ave Maria Che cazzo Ne so di quello che fanno Certo E in ogni religione Sicuro c'è un equivalente E ti dà Un rigore Un rigore E una pace di mente Che non esiste più Perché ora siamo molto stressati Certo Una questione di metodo Però secondo me ad oggi Siamo stressati senza la religione Eh sì Senza credo Senza fede Perché dobbiamo ritrovarla da soli Capito? Senza spiritualità Cioè Senza quel canale Io non sono religioso Io odio qualsiasi tipo di religione Cioè Idem Però È dura Non tutti sanno ritrovare Una propria religione Capito? Esatto Però mi ritrovo nella spiritualità Ho una mia spiritualità E ho anche dei surrogati della religione Esatto Delle cose un po' esoteriche Un po' Super Scusate Superstiziose Cioè le vado a ricercare Laddove la religione Non me la dà Esatto Però ad oggi secondo me L'offerta In campo spirituale È talmente ampia Che riesci a costruirti Un tuo credo spirituale Sì 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 Senza per forza Dover seguire dei dogmi Solo che la religione Si è andata avanti così Migliaia di anni Perché hanno trovato un metodo Comodo Per tutti Cioè per l'ignorante È come l'arabo bianco La religione è come se fosse L'arabo bianco Ecco per intenderci Una lingua universale Che va bene per tutti Non c'è più religione Bello Sei vero ma giusto C'è pure una risata Devo farla pipì raga Troppo deep No però effettivamente La questione religione Ci pensavo Vedendo questi italiani Che si inchinati a pregare È veramente strano Come ci siamo allontanati Un sacco dalla religione A me va benissimo Non me ne frega niente Però vedo che le ripercussioni Sono Tante persone perse Cioè Con la religione Magari c'era una sorta Poi non lo so Perché non abbiamo vissuto Un periodo di Fede così Widespread Ovunque Forse c'erano anche più tensioni Cioè Tra Tra religioni Però vedere Vedere che Che tutti avevano più o meno Un qualcosa da incolpare Per alcune cose Da ringraziare per alcune cose Che è comodissimo Capito Cioè tipo Mi trovo in un periodo Pessimo Dio per favore Fai qualcosa O son sicuro che se seguo questi step E se ringrazio Dio Dio ha un piano per me Cioè È una roba che probabilmente A livello psicologico Aiuta un sacco A te aiuta? Ma certo Ho detto tantissimo Perché Ti auto Te ho detto Metti caso che non fosse vero Metti caso che non è vero Però funziona Eh sì sì Nel senso Funziona anche Per come tu inizi a comportarti Per come affronti Per come affronti la vita Perché Sì a livello psicologico È vero l'impatto Sì Perché Poi chi non ha Chi non ha Dio Trova qualcos'altro Dicevo Federico Trova il numerologo È sempre un credo Alla fine E Ognuno ha la propria roba Io Ho i bilancieri Ognuno ha le proprie Capito? Come va Al massimo Tutto il percorso Che va fatto E C'è pure una dieta Ci sono i momenti Dove stacchi Dove perché A me piace C'è la questione Del Il ramadan Mi è sempre Mi è sempre affascinato Che mio caro amico L'ha fatto tante volte Da giovane E Mi è sempre affascinato Questa Questa forzatura Su tutta la popolazione Musulmana Sì Perché penso Che ti aiuti a riflettere Perché poi Si estende oltre al cibo Certo Si estende oltre al cibo Le parolacce Devi essere Le parolacce Devi pensare bene Cattive intenzioni Eh cavolo Magie Si stanno parlando del ramadan Non puoi guardare i culi Per strada Allora Il primo sguardo Ok È il secondo E quando torni a guardare È indicato proprio così Il secondo non va bene Eh ma è tutto È tutto Sull'intenzione Ma esiste La religione È tutto sull'intenzione Nella religione musulmana Il porco dio esiste No Non è contemplato Ci sono delle Bestemmie Pure in arabo Sanno paura Senti proprio i tuoni Senti proprio i tuoni Voglio impararle tutte No Non so Non vorrei dire Non vorrei No Volevo che posso Andare avanti Con gli argomenti Mi chiedevo come nel disco Hai Baby Gang Come è nata la collaborazione E qual è la motivazione Che ti ha spinto A dire Faccio un pezzo Con Baby Gang Mi piace un sacco Mi piace un sacco Innanzitutto musicalmente Lo ritrovo Quando lo vedo Cioè quando lo guardo Mi ci rivedo Mi ci rivedo tanto Vedo Vedo tanto di me Tanto di me Da piccolo E penso che sia un fenomeno Sociale Molto Forte Il ragazzino È già leggenda Sì 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 E Spacca Ci siamo trovati bene In studio Avevo un'idea È prodotta da Fauzi Ah che grande Fauzi Era il nostro amico Di compagnia Sì Lui ha un tatuaggio Della tua ex No Non ha tatuaggi È prodotta da Fauzi Che anche lui è marocchino E niente Abbiamo fatto questo pezzo Drill Però Insolito E Basta Parla di Sì Il ritornello dice PTSD Parla di PTSD Bello Sì Cos'è la PTSD Post Traumatic Ah Post Traumatic Disorder Sì Bello Figo Ma Che stile Che stile ha questo disco Senti di aver fatto Una Una mini Qualche cambiamento Nel tuo Nel tuo stile Non lo so Semplicemente So che è brutto dire Però è un altro disco Ho lavorato A un altro disco Sempre Cercando Tanto Rincorrendo Questo suono Che ho in testa Che non so Non so se è venuto fuori Non so se L'ho vissuto Veramente troppo Da dentro Questo disco Non saprei Cosa dirti È difficile Spiegare i dischi No ma infatti Anzi ti direi Lascia stare Anche perché è molto più bello Far parlare il disco Io odio Quando un artista Prova a spiegare La propria musica Sì cazzo Non ti saprei dire Sì sì Mi è uscita Proprio Non volevo saperlo Neanche Cosa pensi Però c'è tanta condivisione In questo disco Ho tirato in mezzo Tanti producer Ho viaggiato L'ho scritto In momenti diversi In paesi diversi Un percorso Sì un percorso Cosa sto pensando Cos'è una sfida Stai pensando No volevo parlare un po' Secondo te Mi domandavo questa cosa Quanto è diventata veloce Secondo te Il mondo della musica Cioè io noto che è tutto diventato Velocissimo Alla settimana Alcune cose se ci guardi Durano Sì però poco Di brutto Però poco Esempio Quelle hit Che scoppiano in ritardo E continuano ad andare avanti Ah sì Faccio due esempi Rove Scoppiano in ritardo Perché si emeritano Esatto Come anche Bello Figo Ci sono delle sue canzoni vecchie Che riemergono dopo un anno E rimangono super hit Rove per esempio Ho visto di recente A scoppio E' successo con Blanco Anche che continuano a rimanere lì E queste cose Cioè Forse è che c'è tanto C'è tanto Tanto hype Widespread E tanto Esplode E scompare Esplode e scompare Però poco Come sempre Resta Sì è vero Più È un'epoca completamente nuova Secondo me Sono tantissimi artisti Sì Allora non riesco a capire Comunque sì è nuova Sicuramente è ancora più nuova Rispetto a Lul Cioè sì Sta veramente succedendo adesso Che è ancora Qualcosa di nuova Cioè un periodo in cui la musica viene concepita E anche fruita in maniera completamente nuova Che non riesco a inquadrare Proprio il tipo di consumo Sì Per quello che abbiamo appena vissuto Adesso sai che ti aspettano Da ora fino a A due anni Non ci sarà un giorno senza un concerto Probabilmente E poi è anche un po' la prova del nove Perché Torneranno tutti a fare i concerti E E si vede chi li sa fare Eh sì Stavo pensando alle macchine Che vanno in giro con la musica sparata Non ho idea se Che tipo di fruizione Poteva esserci un tempo In che senso scusami Non lo so Ma che cos'è No che mi sono immaginato La macchina che gira con la musica forte E senti Più o meno È indicativo del fatto Che quel pezzo Cioè che quando c'è un pezzo forte Lo senti nelle macchine in giro Ah sì Con la pandemia Cioè Ho dimenticato tutti questi modi Esatto Cioè È chiusa quel suono Anche TikTok è strano Perché a volte Quello che va su TikTok Coincide Con quello che va In classifica A volte no Perché a volte va Va bene un pezzo di una canzone Ma non la canzone intera A volte va un pezzettino piccolino Quindi è strano Ed è Però è vero TikTok Quello che è assurdo Che piano piano ha preso piede Le persone per strada Sanno che esista TikTok Sanno Cioè abbiamo tutti questa coscienza di TikTok Sì No tutti sono TikTok raga Ma è figo TikTok Che all'inizio secondo me era finto È stiloso Sì Gigi ha avuto un periodo di repulsione Verso TikTok Anch'io Perché era pompato Era finto Sì ma raga è divertente È più real È figo No 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 Tu lo vedi finto No prima prima Io lo vedo molto vero Adesso è vero È tanto vero Perché è più usato di Google Sì ma non è proprio posing per niente Cioè Perché lo fanno E che lo fanno le persone Lo fanno le persone TikTok Dipende A volte sì Dipende dai contenuti I preti sono i più poser Io scrollo più TikTok che Instagram Cioè guardo molto più TikTok che Instagram È la figata di TikTok che ti arrivano pure Il video Cioè il video fatto in una casa in Slovenia Con zero like e zero views Sì 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 Ma è che è fatto dai creatori Da chi fa le cose Ma a te appaiono i preti? No Ma solo a me porca puttana Eh sì Fede Lo sanno No mi appaiono i preti Lo sanno Minchia TikTok sa Sai che in realtà mi piacciono Hai accettato i cookie In realtà mi piacciono i preti Ah quando accetti i cookie Probabilmente loro sanno Sanno che mi piacciono i preti Sì sì Eh vabbè In realtà io amo i preti Sicuro Beh guarda che è un amore odio Quello che hai per la chiesa Io sono sicuro che è una certa Ti conversi Cedi e vai Inizia ad andare in chiesa È un amore odio È un amore odio Tipo l'amore per il dittatore Che non capisci Allora no È più È più Sono affascinato dalla dietrologia Quello sì Sì Però non mi sento Cioè non mi ecciterai Sì come il complottista Che ama i massoni E vuole entrare nella massoneria Capito Sì Vuole combatterli Ma vuole anche sapere Perché non si parla più Di illuminati e massoneria Perché ormai hanno vinto loro Perché dal momento Che non se ne parla più È perché sono sempre più presenti No credo se ne parli Ma Nei vostri tempi Se ne parlava Si parlava solo Oh io ero super scimmiato Io ero super infossato Cioè 2011 2011 era tutto Io facevo tutte le foto Facevo i messaggi subliminali Capito Sì sì Eh a me me lo ricordo Io avevo anche Io qui avevo Il triangolo Il triangolo con l'occhio L'hai coperto perché ti han detto I tuoi capi No perché mi sentivo un po' un cretino A un certo punto Da te lo copro Mi sentivo un po' un coglione Perché poi hai iniziato A prendere potere Diciamo Mi hai detto Lascia stare Copriamola Sì Vabbè progetti per il futuro Progetti per il futuro Cosa vorresti fare da grande Aiutare le persone Bello Di che anno sei? Novantatre Novantatre Uh Sei di che anno Di che anno A 97 Vabbè siamo tutti Siamo una scala No in realtà È una scala Perché ero abituato Quando eravamo giovani A vederlo molto giovane Però fede è assurdo C'è ogni puntata Mi chiedi quanti anni ho Non ti entra in testa Lo so che sei del 97 Volevo che lo dicessi tu Anche ieri l'ha fatto Con Bolle Sai quanti anni ha Roberto Bolle? Ne avrà 35 47 Assurdo Incredibile È la persona più in forma Che abbia beccato Mangia un piatto di pasta al mese Non lo so C'ha la pelle liscissima Mangia le banane Mangia un sacco di banane Ha detto Però sicuro è una dieta Molto Molto Farà la cacca durissima No Mangia anche frutta secca Magari Bilancia Fede Ho appena cambiato I suoni Vedi tipo Questo fa così Lascialo andare Quello lì Scusa Chiudiamo? Sì Ringraziamo Gali di essere stato con noi Facciamoci quel 5 che facevamo quando eravamo giovani Dai Così No Non esiste Non abbiamo mai avuto un 5 No era così 5 Era anche da voi Era questa cosa semplicissima Sì Facevamo Ah no forse ce l'avevamo davvero Così tipo Cazzo sì Ringraziamo Gali per essere stato con noi Ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Servaggio Yeah Grazie Gali